Perché riflettere oggi di società, cultura e comunicazione? Lo si comprende dall'ultima fatica letteraria di Egidio Lorito, giornalista e scrittore di Praia a Mare, la comunicazione mediatica tra egemonia culturale ed egemonia sottoculturale. La scelta è stata fortemente voluta anche per dare un'impronta di attualità, una tesi di laurea. Nel 2013 a Cosenza, discuto con il professor Paolo Jedlowski, un milanese che insegna sociologia a Cosenza, discuto questo argomento, ovvero il passaggio della cultura in Italia nelle varie fasi della dottrina. Cioè dall'epoca gramsciana, in cui il concetto di egemonia e di egemonia culturale era molto forte, a quella la fase berlusconiana, legata a trasmissioni di grande successo popolare, di grande successo mediatico, ma, come dire, carenti di grande struttura culturale portante. Ne è nato un dibattito molto forte, che ha visto un intellettuale giovane ma fortemente impegnato come Massimiliano Panarari, che insegna comunicazione politica alla Luiz di Roma. Ne è nato un dibattito forte a quattro voci, con Stefano Zecchi, che è ordinario di estetica alla Statale di Milano, Marcello Veneziani, giornalista e scrittore di grandissimo fascino e prestigio in Italia, Mario Caligiuri, che insegna comunicazione pubblica all'Unical di Cosenza, e con lo stesso Panarari. Un discorso a più voci, che hanno dato una mano, con il loro expertise, a mettere nero su bianco per la pubblicazione questa mia tesi laurea del 2013. Una riflessione che evidenzia la ricerca dell'interesse nei programmi dal grande impatto mediatico, perché leggeri. La discesa in campo non politico, ma in campo imprenditoriale e televisivo di Berlusconi ha portato una scossa fortissima al vecchio sistema televisivo italiano, che per almeno 30 anni era legato alla cosiddetta Mamma Rai di Ettore Bernabei, la Rai pedagogica, come si disse in quegli anni. Berlusconi invece portò programmi di leggerezza assoluta, dove gli argomenti importanti, gli argomenti fondamentali, venivano ad essere, come dire, trattati in maniera molto scivolosa, molto leggera, molto soft. In questi giorni il caso è successo commerciale di un film come Quovado, di Checozzalone, che è un nome costruito, su un modo di dire barese, Checozzalone si dice Checozzalone, cioè Checozza grossa fondamentalmente. Ebbene, al quarto film il signor Zalone vende e stacca milioni di biglietti, 3 milioni o 4 milioni di biglietti, con un incasso di oltre 20 milioni di euro, ridendo sui problemi atavici italiani, la ricerca del posto fisso, il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione. Ebbene, quel tipo di prodotto culturale ha impatto e ha successo in Italia, semplicemente per un motivo, perché analizza problemi reali del nostro paese, visti però sotto un'ottica scherzosa, divertente, leggera.